Nella Basilica è stato installato un nuovo impianto elettroacustico, ovvero completamente rinnovato sia i diffusori acustici che il sistema di alimentazione e amplificazione del segnale che loro riproducono. Questo nuovo impianto è stato finito praticamente in questi giorni ed è articolato in più diffusori, tra loro collegati con un sistema di ritardo, in modo che il segnale che sarà generato dal microfono dell'officiante arriverà in maniera molto più perfetta, molto più precisa e intellegibile rispetto ai precedenti sistemi. In particolare che cosa avvertiranno i fedeli e i pellegrini che frequentano la Basilica di San Pietro? In particolare avranno una percezione del recitato molto più precisa, con una ritmicità, una precisione dell'attacco della parola estremamente più preciso e questo gli consentirà di avere una più facile intellegibilità di quello che verrà detto. Quindi la partecipazione alle liturgie è molto più avvolgente? Partecipare alla liturgia è già una cosa avvolgente. Quale potrebbe essere la novità? Che precedentemente veniva usato un volume innaturale e la percezione era che veniva il suono da questi diffusori posti anche ai lati. Ora il suono dovrebbe essere percepito come proveniente quasi dall'altare perché è stato adottato un sistema di ritardo in modo che le sovrapposizioni dei segnali indichino quasi una provenienza centrale e questo consente oltretutto di avere un livello di emissione più basso, quindi più naturale, senza forzare la sensazione acustica, cioè senza essere sopraffatti. Quindi questo sicuramente farà in modo di avere una partecipazione più naturale anche all'evento. Cosa possiamo dire sulla realizzazione del progetto in quanto a tempi e a particolarità che ha richiesto? Io ho avuto l'incarico di studiare l'acustica, di fare il modello acustico della Basilica. Per fare il modello acustico della Basilica ho adoperato tutta una serie di tecniche e di indagini che vanno dallo studio dei parametri fondamentali dell'acustica, del tempo di reverbero, l'early decay time, lo speech transmission index, cioè tutta una serie di parametri che vanno a qualificare il posto, così come degli altri parametri che sono legati più a uno studio proprio tipico della propagazione degli impianti, come sarebbero quelli del tema della coerenza del segnale da un punto a un altro o dell'individuazione della provenienza del suono. Tutto questo studio ha portato a definire il miglior modello propagativo che è stato accorpato nella realizzazione di questo sistema che ha avuto ora il collaudo. Che cosa si porta indietro da questa esperienza in particolar modo? Aver studiato la Basilica mi ha rinnovato tantissime informazioni e una ricchezza di cui non posso altro che essere grato. Ha avuto anche il modo di conoscere le maestranze che operano nella Basilica, cosa ci può dire al riguardo? Persone tutte straordinarie, molto preparate, da alcune ho imparato anche il modo con cui si affrontano alcuni temi che sono più complicati. C'è stata diciamo un'armonia di più professionalità che hanno collaborato insieme? Indubbiamente. Si è lavorato anche di notte? Escutivamente di notte, di giorno ci sono i fedeli, per cui il lavoro qua è solo dalle sette in poi. Cosa l'ha colpito in particolare? La Basilica di San Pietro è un corpo edilizio di 19.700 metri quadrati per 730.000 metri cubi. È lungo a 200 e passa metri ed ha un tempo di reverbero altissimo. Perché dico questo? Perché partendo da questi presupposti, la prima volta che sono entrato nella Basilica immaginavo di trovarmi un campo reverberato estremamente ampio. È un campo reverberato alla caratteristica di nascondere la provenienza del suono. Per me è stata una sorpresa anche emozionante scoprire invece che la provenienza del suono era individuabile in tutti i punti della cattedrale e ovviamente l'individuazione coincideva con l'altare. E questo anche in un certo qual senso contraddicendo quello che è la convinzione comune che appunto in un campo reverberato non si può riconoscere più tanto bene la provenienza del suono. La Basilica di San Pietro, dal punto di vista acustico, la decadenza del segnale rimane perfettamente lineare in tutti i suoi punti. È un'impronta rara da riscontrare e ovviamente il punto di partenza è l'altare.